Questo è Galaxy Watch Ultra, ma di lui parliamo dopo. Prima però parliamo dei nuovi pieghevoli di casa Samsung, ossia Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Cerchiamo di capire cosa cambia rispetto ai modelli dell'anno scorso dopo la sigla. Samsung Galaxy Z Fold 6 è diventato più sottile, più leggero, più bilanciato e appena più grande perché ad aperto infatti abbiamo 2,7 mm in più che secondo Samsung dovrebbero renderlo ancora più utilizzabile. Ma questo lo scopriremo in fase di recensione. Cambiano anche i colori e sono un po' contenta e un po' dispiaciuta. Il Fold 5 lillino a me era piaciuto parecchio e il fatto che non ci sia più un po' mi rende triste. Però ora abbiamo il Silver Shadow, il Pink e il Navy che secondo me è il più bello di tutti. Naturalmente ci sono novità anche sotto al cofano a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy che è ancora più potente e che promette un ray tracing ancora migliore per gli appassionati di videogiochi. Abbiamo anche una camera di vapore più grande per la dissimazione ovviamente del calore e una luminosità maggiore per il display interno. Ecco le dimensioni degli schermi sono le stesse ed è uguale anche l'IS Pen che continua ahimè a non essere inclusa né nello smartphone né all'interno della confezione di vendita. E secondo me è un vero peccato perché è la marcia in più di Z Fold. C'è un altro elemento che potrebbe sembrarvi familiare ed è la Galaxy AI. L'intelligenza artificiale di Samsung che avevamo in realtà già visto all'inizio dell'anno con la famiglia S24 e che poi è sbarcata anche sui pieghevoli dello scorso anno è già integrata ma con delle novità. Ad esempio ora si possono attivare le registrazioni vocali nelle note e poi farle trascrivere lì così avete tutto nella stessa pagina. La traduzione nel browser ora coinvolge anche le immagini quindi se in una foto c'è anche del testo viene tradotto pure quello. E a proposito di traduzione cerchi e cerca ora può anche tradurre mentre la funzione interprete ora sfrutta i due schermi di entrambi i pieghevoli quindi sul display interno potete vedere la vostra traduzione e su quello esterno potete mostrare la versione per il vostro interlocutore. C'è anche una nuova modalità ascolto in sostanza non dovete più premere e parlare ma attivate la funzione e il telefono rimane appunto in ascolto e continua a tradurre per voi in tempo reale finché non decidete di stopparlo. Altra cosa fighissima secondo me potete disegnare cose su una foto e l'intelligenza artificiale trasforma in realtà le vostre modifiche. Ad esempio se avete una foto brutta come quella che abbiamo fatto noi potete disegnare una piantina e la i la trasforma in una piantina vera. C'è anche portrait studio che crea invece delle versioni creative dei vostri ritratti. Tutto questo ovviamente lo ritroviamo anche su Galaxy Z Flip 6 che vanta anche una nuova e utilissima funzione che sono le Smart Replies. Quando è chiuso così e ricevete un messaggio l'intelligenza artificiale suggerisce una risposta contestuale. Ad esempio se qualcuno vi chiede se volete andare a mangiare la pizza o sushi questa sera la risposta che vi suggerirà potrebbe essere preferisco la pizza o preferirei sushi. Ci sono anche nuovi widget per la personalizzazione, la possibilità di usare più o meno direi tutte le app sullo schermo esterno e novità anche per la fotocamera perché ora la principale è da 50 megapixel. Ma non solo, ora avete lo zoom automatico sul soggetto e la i che interviene per migliorare i ritratti. Insomma il telefono vi suggerisce cosa sarebbe meglio fare e fare un po' da regista per voi. Ovviamente abbiamo anche qui il processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, anche qui una camera di vapore più grande e finalmente una batteria più grande. Arriviamo a 4000 mAh. I colori di quest'anno poi secondo me sono assolutamente top. Blu, giallo, mint e sempre silver shadow. Ora vi chiederete quanto razzo costano. Z Fold 6 parte da 2.099 euro, mentre Z Flip 6 da 1.279 euro. I tagli di memoria sono 256, 512 e invece il terabyte riservato al Fold. E ora veniamo al Galaxy Watch Ultra perché ve l'avevo promesso all'inizio. Che costa? Oh, rullo di tamburi? 699 euro. C'è un unico taglio e c'è solo in versione LTE. Il nome e il design vi suggeriscono già per cosa è pensato. È uno smartwatch per chi ama attività un po' più estreme. La cassa è in titanio, è certificato secondo gli standard militari, c'è anche la certificazione IP68 e resiste fino a 10 atmosfere, che sono 100 metri di profondità. Il display ha una luminosità di picco di 3000 nits, che sono canterrimi, ma necessari per vederlo bene sotto al sole e c'è un tasto aggiuntivo che può essere personalizzato. È diverso anche il cinturino con un sistema di gancio e sgancio, davvero molto semplice. Sotto la scocca abbiamo un processore a 3 nanometri che promette di essere tre volte più veloce rispetto ai modelli precedenti. Poi sensori migliorati, abbiamo il GPS a doppia frequenza e una batteria che dovrebbe garantire più o meno 100 ore di utilizzo in risparmio energetico. Anche il software è stato adattato. Ad esempio con Watch Ultra avete l'allenamento multisport, quindi potete dirgli che prima correte, poi nuotate e poi andate in bici e lui traccia tutto di fila, senza interruzioni. C'è anche la possibilità di sfruttare l'intelligenza artificiale per farsi analizzare e capire quanto in là potete spingervi con i vostri allenamenti. O ancora, potete sfidare voi stessi comparando le prestazioni di oggi a un allenamento che avete fatto in passato. Pensate sia finita qui e invece no, perché Samsung ha lanciato anche il nuovo Galaxy Watch 7, le nuove Buds 3 e le 3 Pro e anche l'attesissimo ring che però non arriverà in Italia, almeno per ora, ed è secondo me una notizia orribile. Se volete sapere di più di tutti questi prodotti vi lascio tutti i link del caso in descrizione, è incluso l'articolo con tutte le promo che come al solito sono ottanterrime e soprattutto molto molto interessanti. Fatemi ovviamente sapere nei commenti cosa pensate di tutte queste novità di Samsung e ricordatevi le cose importantissime, quindi iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di seguirci su Instagram e su TikTok già che ci siete. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!